La tranquillità dell'anima Lucio Anneo Seneca, 4 a.C. 65 d.C., filosofo, drammaturgo, politico romano, senatore, questore, tra i massimi esponenti dello stoicismo eclettico di età imperiale, in La tranquillità dell'anima, dice «Bisogna concedere riposo alla mente perché dopo si trovi rinfrancata e più vivace». Commento. Forse, per la tranquillità dell'anima, bisogna allontanarsi dalla mente e accedere alla coscienza.